Questa è stata una campagna elettorale fatta bene per il Movimento 5 Stelle e ovviamente a guida Giuseppe Conte, quindi evidentemente le persone hanno compreso le nostre battaglie e il consenso viene da questo. È chiaro che la responsabilità politica di questi risultati immagino sia da attribuire al Partito Democratico di Letta che farà un suo mea culpa anche in queste ore e noi comunque siamo soddisfatti, lo ripeto, per un principale motivo. Qualche settimana fa, all'inizio di questa campagna elettorale, si parlava per il Movimento 5 Stelle di polvere di stelle, ci si dava ad un risultato con una sola cifra e invece oggi capiamo che non è così. Quindi abbiamo fatto bene a crederci e con noi tutti i cittadini. Ecco, ma questo infatti le volevo chiedere, rispetto a questa campagna elettorale, si è l'impressione che un po' la rinascita vera e propria al livello di consenze ci sia stata nella parte finale di questa campagna elettorale? Qual è stato il momento chiave da questo punto di vista, secondo lei? Glielo dico francamente, forse esserci divisi, diciamo, da quella parte del Movimento 5 Stelle che ci ha resi un po' ambigui in questa legislatura, ha permesso un momento di chiarezza per tutti i cittadini, non solo, ma anche per la nostra forza politica e probabilmente siamo stati premiati per questo. Gabriele Di Gironamo si parlava di tendenze in Abruzzo, ne parlava il direttore Carmine Perantuono, che in qualche modo la fa ben sperare. Beh sì, attendiamo sempre la definizione dei risultati. Speriamo bene, speriamo bene. La tendenza si era già presa nelle ultime settimane, come diceva Daniela, è successo qualcosa di nuovo all'interno del Movimento 5 Stelle, lo abbiamo visto proprio nel momento in cui abbiamo avuto quella scissione. Io ricordo i dati delle iscrizioni che iniziarono a schizzare, come mai prima, quindi devo dire che abbiamo ottenuto una sincera boccata d'aria e lo stiamo riscontrando in queste ore con queste tendenze e spero che tutto ciò venga confermato fra qualche ora. Quindi l'ascissione da Di Maio è stata fondamentale da un certo punto di vista? Direi di sì, direi tra l'altro di non aver visto una grande campagna elettorale da parte dei candidati di Di Maio in Abruzzo, sinceramente. Non credo che il progetto che sia stato definito da Di Maio sia poi effettivamente un progetto così concreto, altrimenti li avremmo trovati insieme a noi nei confronti a spiegare di cosa parla il loro programma.